L'Ateneo Sassarese è in salute, parola di Massimo Carpinelli, rettore uscente. Dopo sei anni di mandato, gli indicatori negativi raccolti in eredità hanno cambiato di segno. Siamo risaliti come numero di iscritti a 13.700, quindi con un numero di iscritti molto superiore a quello iniziale e siamo tra i primi in Italia come percentuale di iscritti e abbiamo inanellato cinque anni dopo il primo di bilanci inattivo. Parlano i numeri, sostiene il Magnifico. Secondo posto per il Censis tra gli Atenei Medi, milioni di euro investiti, decine di assunzioni e il fiore all'occhiello della Scuola Superiore di Sardegna, summa degli imperativi del suo rettorato. La valorizzazione del merito, la valorizzazione delle migliori intelligenze, la valorizzazione di un sistema trasparente e forte di reclutamento che possa dare spazio a tutti e in particolare ai migliori studenti. Sei anni di luci e qualche ombra per Carpinelli, in particolare quest'anno con la visita saltata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'inaugurazione dell'anno accademico. Sull'assenza pesa l'ipotesi di una malattia diplomatica. Il Presidente Mattarella ha mandato un messaggio in cui spiegava chiaramente quali erano le sue motivazioni per non venire, che erano quelle di salute e a questo rimango. Ma il vero caso Spelli risiede nella scelta di posticipare le elezioni per il nuovo rettore a fine novembre. Mal digerita dai sindacati e da alcuni docenti, la decisione è stata dettata, secondo il Magnifico, dalla necessità di rispettare la legge e tutelare la sicurezza sanitaria. Ogni qualvolta si fanno delle scelte ci sono o ci possono essere posizioni diverse. Alcuni le hanno espresse in modo pacato, altri le hanno espresse in modo rumoroso o addirittura sguaiato. Ma ci sono moltissime persone che condividono questa scelta. Nessun dispotismo nella sua gestione, assicura Carpinelli, che garantisce di essere sempre stato disponibile al confronto anche con chi dissentiva da lui e conclude rivolgendosi ai giovani che valutano di iscriversi all'Ateneo di Sassari. I ragazzi oggi hanno più intelligenza di molti adulti e sono in grado di scegliere da solo. Quindi guardino i risultati dell'Università di Sassari, guardano cosa ha fatto l'Università di Sassari e scelgano e soprattutto studiano.